Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi delle cosine che ho acquistato al DM. Ne sono veramente poche, però siccome sono edizioni limitate volevo comunque farvele vedere. Allora, intanto c'è una nuova linea, questa è con vitamina C più E e poi mi sembra c'è anche al melograno. Comunque questa qua è la linea con estratto di avocado e mango e acido ialuronico. Di questo vi avevo mostrato uno scrub per il corpo in un video, vi lascio poi caso mai il link di quel video se lo trovo. Sono uscite anche le maschere per le mani, mi sembra anche le maschere per il viso, non ricordo. Comunque io ho acquistato questi qua che sono i patch per gli occhi, perché le maschere viso in tessuto inizio, adesso che inizia il freddo, inizio ad utilizzarle molto meno, quindi ho preso i patch. Poi, questo qua che è diciamo come profumazione più estiva, però io tanto i deodoranti li metto sempre, anche se hanno profumazioni estive li metto anche in inverno. Questo qua è un'edizione limitata, ma da me c'è ancora, ed è il deodorante di Balea al profumo di frutta tropicale, una profumazione buonissima. I deodoranti Balea, lo sapete, ve li straconsiglio tutti, cambia solo per quanto mi riguarda la profumazione, che quella è personale, per il resto sono tutti uguali e mi piacciono molto. Questo mi mancava, l'ho preso. È uscito questo bagno schiuma, il limited edition Magic Wonderland. Questo qua è un crema doccia. C'era anche sempre al tipo frutti di bosco, con una confezione tutta rossa, ma a me i frutti di bosco non piacciono. Quindi ho preso questa. Ed è dolcina fiorita, molto delicato, buono, mi piace. 99 centesimi. Poi è uscita tutta una linea, aspettate che la prendo, che sembra quasi una linea per bambini, ma in realtà è per gli adulti. Io ho preso quasi tutto, a parte due prodotti. La crema corpo e la crema mani, per quanto mi ispiravano tantissimo, non l'ho presa perché ne ho troppe in casa, quindi non riesco a smaltirle tutte altrimenti. Quindi ho preso il gel doccia, guardate che carini queste confezioni, questa ad esempio alla giraffa, e questo è il profumo esotico di visco e fiori di gelsumino. Questa è una linea che da me, al DM, da me è uscita relativamente da poco. Negli altri da un pochino di più, però vedo che da me ad esempio con lo stand è sempre molto fornito di questi pezzi, quindi ve li mostro. E costano pochissimo. Poi c'era il detergente per le mani, al profumo di arance e fiori di vaniglia, con la talpa, anche qua una profumazione buonissima. E poi infine ho preso la maschera per il viso di Balea, sempre in tessuto con acido ialuronico ed estratti di fiori di loto, con il panda, ed è di quelle che hanno appunto il panda disegnato sul tessuto. E quindi niente, più che altro li ho presi perché mi sono fatta attirare dal pack. In mancanza dei prodotti, ahimè, per i 25 anni di Balea, che da me non sono proprio arrivati, ho ripiegato su questi qua, che comunque sono molto molto carini. E anche l'anno scorso uscì una linea tipo questa, con tutti gli animaletti che sembrava una linea per bambini, in realtà era una linea per adulti. E io ho preso la maschera con il pinguino, la maschera viso e un'altra maschera sempre con un altro animaletto, che ancora tra l'altro devo utilizzare. Quindi, questi erano gli acquisti mini che ho fatto al DM, fatemi sapere se voi avete trovato e provato questi prodotti che vi ho mostrato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!